Cristina Bautista Revisore Bologna Revisore Un giorno di tanti anni fa, passeggiando per le strade di Bologna, mi sono imbattuta in una frase scritta sul muro, non c'è lotta, senza balotta. Allora per voi che siete qui non c'è bisogno di traduzione, ma per tutti gli altri in italiano potremmo dire non c'è lotta senza divertimento, non c'è lotta senza un gruppo di amici con cui ci si diverte. Ed è proprio da questa frase che voglio cominciare oggi a parlarvi di cittadinanza mobile, di cittadinanza globale, perché nella mia esperienza tutto è cominciato proprio da molto divertimento e da tanti amici. Correva infatti l'anno 2000 e come tanti della mia generazione mi apprestavo a partire per uno scambio Erasmus. Allora non lo sapevo ancora, ma sarei partita una seconda, una terza, una quarta volta e avrei finito per stabilirmi all'estero. Allora non lo sapevo ancora e quindi molto emozionata organizzavo delle feste a casa dei miei genitori chiamando tutti i miei amici per gli ultimi saluti. E qui vedete due cartelloni delle prime due feste MC in Paris e Io parto parti, di cui vado particolarmente fiera e zeppi di disegnini e parole di incoraggiamento dei miei amici. Ora già la terza volta mi sarei sentita francamente un po' ridicola a mettere un cartellone perché l'esperienza del viaggio stava diventando qualcosa di ordinario. Quello che invece mi sembrava straordinario è che di anno in anno erano sempre di più dei firmatari di questi cartelloni a partire e magari a partire e cambiare due, tre, cinque paesi e città di residenza all'estero. Allora non lo sapevamo ancora, ma quello che succedeva nel salotto di casa dei miei genitori era perfettamente in tendenza con il resto d'Italia. Infatti, secondo l'Istat, sono 316.000 i cittadini italiani sotto i 40 anni che sono emigrati tra il 2000 e il 2010. E allora non lo sapevamo ancora, ma se c'è un mistero insondabile è proprio sapere quanti italiani sono all'estero. Infatti, se i dati dell'Istat vi sembravano già abbastanza elevati, sappiate che il centro Altra Italia li ha confrontati con le elevazioni ufficiali di alcuni paesi a forte immigrazione italiana, ricavandone delle cifre che sono tre, cinque, più di dieci volte superiori. Per esempio, qui vedete il Regno Unito, dove a fronte di 32.800 italiani che hanno richiesto il tesserino sanitario inglese, secondo l'Istat sono partite 7.400 persone. E ancora più divertente è l'Australia, dove più di 18.000 persone hanno chiesto un visto di lavoro di breve periodo e per l'Italia sono partiti meno di 1.400. Tornando alle feste, perché non voglio allontanarmi troppo, quello che è successo è che una volta messi in cantina i cartelloni ci è venuta la curiosità, dopo qualche anno, di vedere effettivamente dove eravamo. Quindi abbiamo fatto una mappa dove tutti potevano mettere le proprie bandierine. Quando il risultato è stato questo, ci siamo resi conto che si stava materializzando sotto i nostri occhi, appunto in pochi metri quadrati, tra un gruppo di amici non così tanto numeroso, un network globale capace di avere punti in tutto il mondo. E adesso ce li abbiamo punti in tutto il mondo, perché abbiamo aggiunto anche l'Africa e l'Australia. Cosa è successo? Che quindi, quando ci siamo trovati di fronte a quell'immagine, ci siamo detti che volevamo farne qualcosa. Ed è stato, se non sbaglio, durante un viaggio mio e della mia amica Agnese, che vive a Monaco, per andare a trovare mio fratello, che viveva a Boston, e le nostre amiche Chiara e Valentina, che vivevano a Washington e a New York, che nell'estate del 2008 ci siamo detti che, quindi, quell'anno non avremmo fatto solo la festa, ma avremmo fatto una giornata di partecipazione con una tecnica che si chiama Open Space Technology, molto bella, che vi consiglio. E si può dire che, quindi, il 27 dicembre del 2008, il nostro gruppo di amici abbia subito una modificazione genetica e si sia trasformato in Exbo, Rete di Bolognesi nei Mondo. Le domande che ci volevamo porre erano 3.000. Quel giorno ne avevamo scelta una, che era, se tornassi a Bologna, su cosa vorrei lavorare, cosa vorrei trovare. E alla fine di una giornata in cui parteciparono un centinaio di persone, alcune domande erano rimaste senza risposta. La prima è, ma torneremo? La seconda era, ma quando i nostri genitori avranno bisogno di noi, saranno più anziani, come faremo? Altre, però, erano diventate delle grandi certezze, per esempio. La prima era che avevamo un grande desiderio di trasformarci in nodi di informazione, cioè di creare un dialogo bidirezionale tra l'Italia e il resto del mondo, partendo proprio da noi, dalle nostre esperienze. Come dire che se la prima immigrazione rimandava a casa le famose rimesse, cioè soldi, noi che siamo un altro tipo di immigrazione, forse possiamo concentrarci su delle rimesse 2.0, cioè il nostro capitale culturale, quello che, tra l'altro, il nostro paese ha contribuito a formare. Un'altra cosa che ci accomunava tutti era veramente che la retorica sui cervelli in fuga ci faceva venire l'orticaria. Non so se avete notato, ma funziona sempre che chi parte o è un cervellone, un eroe che insegue il suo sogno e per forza ha successo, quindi, oppure è un individualista spietato che abbiandona il suo paese e che avrebbe tanto bisogno e che, tra l'altro, ha speso tanti soldi per farlo studiare. Mentre chi resta, tipicamente, è uno che scende a compromessi o un martire o, appunto, qualcuno che, chissà, ha rinunciato ai propri sogni. Ora, niente di tutto questo corrispondeva alle esperienze di vita che avevamo noi. Eravamo amici, qualcuno era partito, qualcuno no. Le ragioni erano mille, ma, soprattutto, le domande che ci ponevamo sull'Italia e sul mondo erano le stesse. Erano le stesse e da lì abbiamo capito anche che un altro problema della retorica dei cervelli in fuga è che è alimentata da persone che questa esperienza non l'hanno mai vissuta. E ci siamo resi conto che, quindi, quello che mancava era, forse, una voce collettiva da protagonisti su questo tema. Abbiamo scoperto, perché fino a qui erano cose territoriali, vi potrei raccontare per ore delle attività che Exbo fa, dal 2008 ad oggi, ma potete trovarle sul sito, ci siamo resi conto che non è tanto facile capire quali sono i diritti e i doveri di un cittadino italiano quando emigra all'estero. Sappiamo vagamente delle cose su un registro a cui bisogna iscriversi, abbiamo il terrore della dichiarazione dei redditi e siamo molto preoccupati per l'assistenza sanitaria. E quindi mi permetto di segnalarvi questa guida che è sul sito del Ministero degli Interni, perché per molti sarà una scoperta. Ci sono tutte le informazioni che dovete avere e vi segnalo anche che da pochi giorni c'è anche sulla colonnina sinistra del sito del Ministero degli Esteri una serie di domande e risposte, quindi un formato diverso, ma molto interessante. Il problema, appunto, non era che ci volevamo noi fermare a conoscere i nostri diritti e i doveri, perché avevamo capito che quello che è interessante è anche fare cittadinanza attiva. E così abbiamo scoperto una cosa che nessuno ci aveva mai detto, cioè che gli italiani all'estero possono contare su tre forme di rappresentanza. Una è il rispetto al proprio territorio di origine, sono le famose consulte regionali per le migrazioni, famose, non so. Una rispetto al territorio di arrivo, e l'astro sicuro che non avete mai sentito dire. I comites sono i comitati per gli italiani all'estero e sono per ogni circoscrizione consolare, quindi sono ovunque. E il CGE è il loro organo di secondo livello, cioè che rappresenta gli italiani al mondo, rispetto al loro luogo di arrivo, presso il Ministero degli Affari Esteri. E la terza forma di rappresentanza, e lì sarete più sereni perché la conoscete senz'altro, sono i parlamentari eretti nella circoscrizione estera. Questa la conoscete, ma in compenso le altre due sono più antiche, sono nate negli anni 70, negli anni 80, e a differenza dei parlamentari hanno una base associativa e sono tenute da volontari. Allora, perché sono importanti queste forme di rappresentanza? Per prima cosa, perché se tanto tanto vi è sembrata smart l'idea che abbiamo avuto in Trenta a Bologna, immaginatevi che questi sono network di associazioni di italiani in tutto il mondo. Per seconda cosa, perché sono appena stati rinnovati. i comiti sono stati eletti ad aprile, il CGE a settembre, tra l'altro ne faccio parte, e la consulta, per esempio quella dell'Emilia Romagna, sta proprio rinnovandosi in questi giorni. Quindi è il momento perfetto per informarvi, per andarli a conoscere, per stimolarli, e magari per pensare di candidarvi fra cinque anni. L'ultima ragione per cui sono importanti è che hanno competenze complementari. Per esempio, se per caso qualcuno di voi sta pensando di trasferirsi all'estero, magari, che ne so, a Monaco, piuttosto che a Città del Messico, piuttosto che a Copenaghen, adesso sa che può rivolgersi al comites di quel territorio per farsi aiutare nell'inserimento, per conoscere un po' le dinamiche del luogo di arrivo, e quindi, insomma, diciamo che svolgono una funzione di mediatore culturale. Se ci sono artisti o imprenditori tra di voi che sono legati al territorio non necessariamente regionale, ma anche dei comuni dell'Emilia Romagna e di tutte le altre regioni, magari sarà interessante per voi andare a contattare la consulta per preparare dei viaggi o per sollecitare le comunità all'estero rispetto alle proprie attività e magari creare progetti, appunto, culturali o economici per l'estero. Queste sono forme di rappresentanza importanti, ma, come dicevamo, riguardano sostanzialmente il nostro essere cittadini italiani. Ora, se c'è un dato importante, che non bisogna dimenticare, è che, vabbè, abbiamo capito che le cifre sono un po' vaghe, però sappiamo che, come minimo, gli italiani all'estero sono 4.636.647. Di questi 4.600.000, li avete capito, più della metà abitano, risiedono, dentro l'Unione Europea. Significa che per 2 milioni e mezzo di italiani, sostanzialmente, i punti di riferimento istituzionali sono il Comune, la Regione e lo Stato da cui si proviene, il Comune, la Regione e lo Stato in cui si arriva e, per tutto, l'Unione Europea. E se vi sembra già un po' caotica, la questione è sappiate che, in realtà, sono 15 milioni i cittadini europei che vivono in un Paese dell'Unione diverso rispetto da quello di nascita. Quindi, stiamo allargando sempre di più lo sguardo e la questione si fa complessa. Allora, mi permetto di segnalarvi, di nuovo, una guida per i diritti e i doveri e, soprattutto, le forme di partecipazione rispetto alla cittadinanza europea. Qual è la questione? Che, sostanzialmente, quello che abbiamo scoperto con l'adagio Non ce lotta senza balotta funziona anche quando ci si trasferisce, cioè che si possono incontrare altre balotte e si può cominciare a voler fare altre lotte. Per esempio, qui, mi vedete alle prese con le reti di associazioni italiane, polacche, spagnole e portoghesi, a Parigi, coordinati da un ONG francese. Ci siamo ritrovati nel 2014 per cercare di fare capire ai cittadini comunitari che potevano votare per elezioni municipali del loro Paese, della città di residenza, e anche scegliere, per le elezioni europee, se votare per i candidati del proprio Paese di origine o i candidati del proprio Paese di residenza. e anche lì è successo qualcosa di straordinario, che eravamo tutti intenti a fare questo progetto e ci siamo guardati attorno e abbiamo pensato che forse eravamo l'unico coordinamento di comunità europee su un territorio nel mondo. e quindi ci siamo inventati un nuovo progetto che ci è stato finanziato dalla regione Ildefrance, che è la regione di Parigi, e nel prossimo anno trasformeremo questo coordinamento in un coordinamento permanente, perché almeno appunto chi è sul territorio possa avere un'idea di che cosa significa forse, almeno per noi, essere l'Europa dei popoli. Avrete capito che mi piacciono i cartelloni. Tra tutti quelli che abbiamo scritto con questo gruppo di amici, sono poi diventati amici, quello forse più importante è proprio quello con la domanda di tutte le domande. Quale Europa vogliamo? E la risposta non la possiamo delegare ad altri. Cioè le istituzioni, la burocrazia sono degli strumenti, ma siamo noi gli attori di questa domanda e delle risposte. E questa risposta la dobbiamo trovare proprio oggi, cioè nella crisi della Grecia, con l'arrivo dei migranti, che tra l'altro sono anche loro dei cittadini mobili. E queste sono delle sfide che non possiamo più rimandare. Un'espressione che forse avete tutti sentito dire, e probabilmente utilizzato, è cittadino del mondo. Se ci fate caso, questa espressione rinvia a un'idea, quella della libertà di poter viaggiare in giro per il mondo con una velige e sentirsi a casa, magari con un volo low cost. Ora, questo magari ha più a che vedere con la globalizzazione dei consumi, ma con la cittadinanza un poco meno. E il rischio è che, se non sentiamo l'urgenza di rispondere a queste domande, quello che succede è che ci sentiamo cittadini del mondo e ci risvegliamo cittadini di nessun luogo. Oggi spero di avervi mostrato tante vie diverse per trovare la vostra strada, quella che vi parla di più, per partecipare. E spero, soprattutto, che sia chiaro che questo, almeno per me, è stato sempre l'occasione di sperimentare tanto divertimento e con tanti amici. Grazie. 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 Grazie.